Sono stati condannati a sette anni di reclusione i due cittadini somali che nel febbraio dello scorso anno violentarono una ventenne romana nell'ex ambasciata somala in via dei Villini a Roma. La sentenza è stata pronunciata dal GUP Elvira Tamburelli che ha giudicato Kadar Adane e Hayabdi, entrambi dei 24 anni colpevoli di violenza sessuale di gruppo. Per ciascuno degli imputati il magistrato ha anche disposto la condanna a 50.000 euro ciascuno di risarcimento danni in via definitiva. Il PM Pantaleo Polifemo aveva sollecitato la condanna degli imputati a 8 anni. Per l'avvocato Teresa Manente che ha tutelato gli interessi della ragazza aggredita, si è trattato di una sentenza giusta emessa da un giudice che ha valutato la gravità dei fatti con coscienza. È stato riconosciuto il diritto della giovane a una liquidazione del danno per l'integrità psicofisica messa a dura prova dall'aggressione. Secondo la ricostruzione della procura, la sera del 25 febbraio scorso la ragazza si era appena allontanata da casa nella zona del Nomentano dopo una lite con la madre. Vicino alla stazione Termini aveva conosciuto un somalo che, offertosi di trovarle un riparo per la notte, l'aveva lasciata al piano terra dello stabile di via dei Villini, vecchia sede dell'ambasciata somala. A stuprarla però furono altri due cittadini africani poi incastrati dall'esame del DNA ricavato dalle tracce di liquido seminale trovate sul cappotto della ragazza. Soddisfazione per la condanna è stata espressa anche dal sindaco di Roma Gianni Alemanno. Viene riconosciuta, detto il primo cittadino, la violenza particolarmente grave e odiosa che ha scosso profondamente questa città e che Roma non intende tollerare.